Ma cambia qualcosina, cambia sicuramente. Cosa ne pensiamo? Rispondo alla prima domanda, ovviamente bisogna che ci sia solidarietà fra le regioni, però non è possibile che alcune regioni, alcune città abbiano un'emergenza eterna. L'emergenza di per sé deve essere limitata nel tempo e non può durare anni, per cui è indispensabile che Roma, come qualunque altra città italiana, si dia da fare per cambiare la propria politica di gestione dei rifiuti e per diventare lo sufficiente. Uno sforzo che l'Ambruzzo sta facendo da alcuni anni, sta facendo grossi passi in avanti, occorre che anche gli altri li facciano. Non possiamo far passi in avanti e tornare indietro per coprire l'emergenza altrui, per cui va bene l'emergenza ma deve essere limitata nel tempo. 70.000 tonnellate di rifiuti che saranno trattate nella nostra regione, questo cosa comporterà? Ma questo da un certo punto di vista è positivo per la regione perché non va a intrasare le discariche, ma da un altro punto di vista significa che i rifiuti fanno su e giù, si muovono di continuo con un aumento dell'inquinamento indotto dal trasporto e comunque rimane sempre un problema di emergenza che non può essere eterna. Per noi la posizione di Mazzocca è sicuramente comprensibile perché è d'accordo per il trattamento, ma le discariche nostre devono andare verso l'esaurimento, quindi è indispensabile che non siano intrasate per evitare che siano necessarie ancora più a lungo. Bisogna andare verso rifiuti zero, bisogna andare verso il no assoluto all'incenerimento e verso una riduzione massima possibile di ogni discarica. Questo si può fare, ma occorre uno sforzo collegiale, non può essere che chi è più bravo è costretto a supportare le inefficienze altrui.